Una lettera al Presidente della Regione, Rosario Crocetta, ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana e all'Anci. L'ha scritta il Sindaco di Gela, Domenico Messinese. Nella missiva il primo cittadino chiede non tanto una nuova sanatoria per coloro che occupano abusivamente gli alloggi IACP, quanto una modifica alla norma che permetta a coloro i quali, per un bisogno reale, hanno occupato un alloggio popolare, di poter ugualmente fare richiesta ed essere inseriti in gradatoria, potendo concorrere equamente senza togliere niente a nessuno. Una legge, scrive il primo cittadino, è giusta quando tiene conto dei bisogni delle persone e non si può giocare con la disperazione di tante famiglie che realmente hanno bisogno di un alloggio popolare. Bisogna consentire in modo equo a tutti quanti di poter fare richiesta di una casa popolare e di essere giudicati per i bisogni di oggi e non per gli errori di ieri. Secondo una stima del Sindacato Nazionale Unitario Inquilini ed Assegnatari, in Sicilia almeno 6.500 alloggi popolari sono occupati senza titolo. Nonostante siano abusivi, gli occupanti versano in molti casi una somma mensile che viene considerata come una sorta di canone forfettario di godimento. Lo fanno perché, soprattutto se hanno i requisiti previsti dalle leggi sugli alloggi popolari, sperano di poter rientrare in eventuali sanatorie. L'ultima risale al 2001 e prevedeva appunto che, se si rientrava nei limiti di reddito e di condizione familiare, si poteva riscattare l'immobile. Ma valeva solo per le occupazioni precedenti al 2001. Da allora ad oggi i vari tentativi di ripetere la sanatoria sono stati regolarmente impugnati dal Commissario dello Stato e recentemente una norma dell'ultima finanziaria regionale è stata bocciata in Commissione Bilancio. Le province di Caltanissetta e Catania presentano, dopo Palermo, la percentuale più alta nell'isola, pari al 23%, che corrisponde rispettivamente a 658 alloggi occupati su 3.722 e a 2.901 su 9.499. Una situazione esplosiva, soprattutto sotto il profilo dell'ordine pubblico, qualora alla questione non si ponga la dovuta attenzione. Grazie. Grazie.